Ciao a tutti ragazzi, oggi togliamo questa cover perché mi sono stancata e ne voglio fare un'altra. Per la nuova ho deciso di utilizzare questi acquarelli, quindi prima cosa vado a ricalcare questa. Ora inizio a fare le sfumature sulle tonalità del rosa e dell'azzurro. Guardate quanto è soddisfacente. Adesso passo a rosa, in questo modo. Alla fine ho deciso di farla soltanto rosa. Io ho fatto tutta la sfumatura, adesso aspetto che si asciughi. Adesso con il bianchetto vado a fare tutto il motivo Animal Air, come New Martina. Ho fatto, quindi adesso la vado a mettere. Vediamo. Cioè ma è stupenda. No vabbè ragazzi, guardate. Questa è la mia nuova cover, fatemi sapere se vi è piaciuta e seguitemi per le prossime.